Amiche per sempre. Unite dalla figura dell'arcivescovo Monsignor Pino Cagliazzo, Matera ed Isola Caporizzuto hanno suggellato il loro patto di amicizia con un gemellaggio la cui cerimonia si è svolta in Calabria. L'amicizia è vero non ha bisogno di un atto formale per essere più vera e più stretta, ma siglandola anche sulla carta, le due comunità hanno voluto esprimere un preciso percorso comune ed il reciproco impegno per la promozione di ricerche mirate allo sviluppo delle tradizioni locali, del patrimonio culturale ed ambientale e per attuare scambi nei settori scolastico, turistico e sportivo. Il gemellaggio reca la firma dei sindaci materano Raffaello De Ruggeri ed Isolitano Gianluca Bruno, ma ovviamente si è sostanziato nel nome di Monsignor Cagliazzo, che sin dalla sua nomina 15 mesi fa ad arcivescovo di Matera Ersina da parte di Papa Francesco ha legato la devozione per la Madonna greca, patrona del suo comune, e quella per la Madonna della Bruna, che invece è la patrona della città dei Sassi. Sin dal suo ingresso a Matera, il 16 aprile di un anno fa, Monsignor Cagliazzo aveva espresso l'auspicio che i due comuni si unissero. E di fatti la cerimonia per la calata dell'icona più cara ai fedeli di Isola Caporizzuto, che ha anticipato di un giorno il gemellaggio, è anche stata l'occasione per stringere il legame religioso tra le due comunità e le due città. Scopi pratici e valori di fede e culturali a parte, l'atto rappresenta anche la volontà di due città del Mezzogiorno che intendono, ciascuna nel rispetto della propria identità, costruire un'alleanza significativa, di riscatto sociale e di rilancio e di crescita dei territori calabrese e lucano. Ed in fondo, ben oltre i temi contenuti nell'atto di gemellaggio, Matera ed Isola Caporizzuto rappresentano due luoghi del sud, nei quali la cultura è custodia di una storia e di tradizioni millenarie.